Buonasera, questa sera siamo con Pino Cabras che è un deputato ed è uno dei fondatori di una formazione politica nuova che si chiama Alternativa CE, che rappresenta più o meno l'unica opposizione, non è l'unico, però insomma una delle poche forme di opposizione che ci sono in questo momento in Parlamento. Cabras ha avuto un trascorso secondo me che me lo rende empatico a prescindere, perché per tantissimi anni ha collaborato con Giulietto Chiesa, con il compianto Giulietto Chiesa e dopodiché prima come lavoro faceva l'analista finanziario. Una collezione di mestieri e di attività. Allora, in quanto analista finanziario io voglio partire da questo, mi spieghi come la finanza si sta mangiando l'economia reale? Direi con una vecchia formula che usano certi economisti che è quella della concentrazione di capitali. C'è una tendenza che va avanti da molti anni a concentrare sempre di più il capitale attraverso delle operazioni che hanno una scala globale, non hanno dei limiti, erano stati tolti soprattutto negli anni 90 rispetto alle scorribande di una classe di rider di banchieri di nuovo tipo, che poi in realtà sono legati anche ai vecchi banchieri, e hanno trasformato profondamente il capitalismo a livello mondiale e stanno intervenendo su tutti i campi. Basti dire che gli azionisti principali dei grandi protagonisti del Big Tech, da Google ad Amazon, Facebook, Netflix eccetera eccetera, sono gli stessi e sono gli stessi delle case farmaceutiche, nonché delle principali banche. C'è una forte concentrazione e il tentativo è quello di estrarre valore dalle società in base ai loro scopi. Ma è in corso un'acquisizione massiccia proprio delle nostre aziende, io parlo delle aziende italiane, per esempio. Quale aziende italiane? L'Italia è una tradizione, è un paese quasi un unicum nel mondo, nel senso è una tradizione artigianale. Noi siamo famosi nel mondo per questo, la nostra capacità di produzione e abbiamo un modo vecchio di fare azienda, c'è un modo in cui c'è la persona che si fa da sé, che costruisce la sua azienda piccola e poi diventa media, a volte diventa grande, che però in alcuni casi ha ancora questa struttura familistica, abbiamo il famoso capitalismo familistico che è tipico della nostra cultura economica. Ecco, questa cosa qui sta morendo e in che misura si stanno mangiando il nostro paese. Credo che questo sia uno dei nodi fondamentali che spiega anche l'attuale governo Draghi. Un attacco sistematico alla piccola e media impresa, all'autoimpiego, all'economia di prossimità, all'artigianato, al turismo, alla ristorazione, a tante realtà che rendevano l'Italia un paese anche flessibile rispetto alle crisi. Perché se hai un tessuto di piccole solidarietà, di piccole imprese che hanno una loro grande flessibilità, hai una capacità di resistere anche agli shock. Sono degli ammortizzatori naturali. E questo tipo di impresa è ormai sotto attacco, perché c'è il disegno appunto di concentrare i capitali, di far entrare le grandi multinazionali. La riassumo proprio con una immagine, perché magari non abbiamo tempo, ma il vecchio artigiano, che diventa adesso un fattorino dell'Amazon, cambia qualitativamente il modo di organizzare la società. A proposito di Amazon, Amazon ha un sistema diciamo produttivo un po' diciamo bizzarro rispetto a quello classico, innovativo, che non è necessariamente una parola positiva, ovvero entra nel mercato, in qualsiasi mercato si è entrata, facendo un'operazione che si definisce tecnicamente dumping, cioè con i prezzi più bassi, anche di tutto il costo, e ovviamente quindi più bassi in tutta quanta la concorrenza. Quindi chi non vorrebbe avere una cosa che costa di meno, chi non vorrebbe avere un pacco che ti arriva un'ora dopo che l'hai acquistato, magari che ti arriva dall'altra parte del mondo un'ora dopo, tante cose molto comode che ciascuno di noi ambisce ad avere. In questa maniera ammazza il mercato, distrugge la concorrenza, basta vedere il mercato librario, ma non solamente quello, e dopodiché una volta diventato monopolista, come tutti i monopolisti fa come gli pare, in senso a quel punto può rialzare i prezzi, oppure, ancora di più, che non è una cosa legata al denaro, perché non credo che Bezos si interessi tanto il denaro a questo punto, controlla il potere, perché io ho il potere di spegnerti e accenderti, poi alla fine è questo Amazon, cioè tutto questo processo che ho appena raccontato si riduce al potere di spegnere o accendere le persone e la loro vita? Ho il potere di renderle appendici di un sistema di estrazione del valore, è una sorta di enorme vampiro imprenditoriale che deve far scorrere il sangue in un'unica direzione e quindi deve costruire un sistema per cui, certo, ti deve dare dell'utilità. Anche Facebook non è che sia uno strumento che non dà un'utilità a chi la utilizza, gli dà la possibilità di contattare delle persone, di essere raggiungibile, di diffondere un messaggio con una facilità disintermediata che prima non c'era, però in cambio vuole un controllo di dati e alla fine di vita delle persone. Noi lavoriamo per Facebook quando scriviamo qualcosa, possiamo metterci nell'ottica che siamo come uno sceneggiatore che sta producendo gratis dei contenuti per qualcuno che estrae del valore. E così questa sorta di bilanciamento tra dare qualcosa, anche di importante, di sentito comune, e prendere molto, e quello che si prende è molto nascosto, è la chiave del successo di queste grandi imprese. È come se Internet, che è nata libera, anche con una retorica della libertà, si diceva è il posto dove posso dire tutto, dove nessuno mi controlla, dove le multinazionali contano di meno di un tempo, è come se fosse stato un sistema in cui tutti eravamo legati con una fune molto lunga, talmente lunga che spaziavamo su tutto il territorio e quindi ci sentivamo liberi. Che differenza c'è tra non avere una fune e avere una fune se possiamo spaziare dappertutto? Però alla fine questa fune è stata tirata e adesso siamo tutti impigliati nel recinto di poche multinazionali che sono i reali controllori del web. Questo è un problema per la democrazia mondiale di proporzioni inaudite e anche difficili da affrontare perché innanzitutto non viene discusso, non viene affrontato, non se ne parla mai e alla fine anche un presidente degli Stati Uniti può essere silenziato sui canali che un tempo si dichiaravano liberi. Ma non è strano che delle aziende private assumono un potere così grande per quanto riguarda la sfera pubblica? Facebook è una cosa privata quindi ha le sue regole, come tutte quante le cose private, se le stabiliscono da soli, lo stesso fa YouTube, lo stesso fa Twitter e così via. Però nel momento in cui questi contenitori diventano la gorà entro cui entra la politica, la politica e l'informazione entrano in questa gorà che sono qualcosa che non appartengono ai privati, ma sono qualcosa che appartengono diciamo all'umanità intera, ecco per essere più... non devono essere regolati non più da regole private ma da regole pubbliche. Perché il Parlamento o l'Europarlamento, insomma la politica non mette mano a questo tema specifico? Allora sull'attuale Parlamento ho un giudizio che non vuole essere sprezzante ma è abbastanza disperato sulla sua qualità perché non c'è la capacità di discutere di questi temi. non sono stati il meccanismo attraverso il quale sono state selezionate le persone, cioè non sono stati eletti per saper leggere questi fenomeni del potere, sono stati eletti per altri motivi e quindi non li affrontano o non li conoscono perfino. Ed è un problema enorme perché queste grandi piattaforme, dove ormai passa la vita di miliardi di persone, agiscono come se fossero appunto delle piattaforme, come se fossero la normale telecom che ti permette di fare la telefonata ma non va a sindacare su quello che dici nella telefonata, non può farlo perché un servizio è come la fornitura dell'acqua in teoria, però agiscono nel contempo anche come editori, cioè come soggetti che hanno una linea politica e quindi decidono no questa cosa non va bene, ormai lo fanno in modo sempre più esplicito e lo faranno in modo sempre più forte. Cioè la libertà di stampa e di parola, così come l'abbiamo conosciuta, è finita. Dovremmo recuperarla, dovremmo lottare con le unghie e con i denti per recuperare quegli spazi di reale libertà difesi dalle nostre Costituzioni. E quindi c'è una prevalenza ormai del privato che decide la linea. Ma l'Europa, tanto vituperata Europa, resta comunque l'area geografica più ricca del mondo, potenzialmente più potente del pianeta e che ha tutti gli strumenti finanziari e tecnologici per modificare tante cose e per creare tante cose. Allora perché l'Europa non fa un po' quello che ha fatto la Cina in qualche modo? Cioè non crea le sue piattaforme Facebook, la sua piattaforma Youtube, la sua piattaforma Twitter, il suo motore di ricerca Google e così via e le sottopone a regole concertate dalla democrazia, ovvero il Parlamento europeo stabilisce le regole, quindi che possono essere modificate e elimina la possibilità della censura, rende realmente questi spazi pubblici. Dove posso sottoscrivere questo programma politico? Sì, sono d'accordo, dovrebbe fare questo l'Europa, però viene da un ritardo che non sarà colmato in breve tempo. Cioè non ha investito in microchip, come dice Draghi, in microchip, perché pagava dei microstipendi alle persone che dovevano lavorare nella ricerca e quindi la ricerca è emigrata altrove. Non ha investito in un'industria di tipo moderno e integrato ed europeo, ha lasciato libere le scorribande finanziarie e industriali d'oltreoceano o ha lavorato su una divisione dei compiti con la Cina, per cui la Cina diventava la fabbrica del mondo e l'Europa faceva le forniture un po' più di lusso e puntava sul mercato delle automobili tedesche, che è il migliore del mondo forse dal punto di vista della qualità, ma non ha puntato su certe innovazioni e ha sottovalutato totalmente l'importanza dei luoghi dove si decide lo stato spirituale dell'intera umanità, cioè le grandi piattaforme informative e comunicative. Non vedo dei soggetti in questo momento in Europa capaci di recuperare in tempi così storici, vicini, questo divario, perché non c'è uno spirito comune di Francia, Germania, Italia, Spagna per recuperare in questo senso. Hanno perso molti treni e bisogna vedere come andrà questa temperie. Sicuramente bisognerà fare qualcosa per limitare lo strapotere delle grandi piattaforme dei colossi. Ci sono tutti statunitensi. E sono statunitensi e sono anche integrate con i servizi di informazione statunitensi. Snowden è un personaggio tragico e interessante della nostra epoca. Per quel che ha rivelato, ha dimostrato in un modo che tutti sostanzialmente sottovalutano, che tutte le informazioni delle grandi conglomerate mediatiche, quindi da Facebook a Google, eccetera, sono in pancia alla National Security Agency, cioè allo spionaggio elettronico americano. Qualsiasi nostra mail, tua o mia, o qualsiasi informazione, qualsiasi bit abbiamo prodotto negli ultimi vent'anni è là dentro, cioè è perfettamente integrato con le strategie di governo degli Stati Uniti. Allora, ormai sono passati 56 anni quando qui a Roma, in un albergo, si incontrano delle persone per mettere a punto un piano chiamato strategia dell'attenzione. Parto dei principi, no? Sì. Allora, la strategia dell'attenzione, tanto per capirsi, è quella che poi ha portato a tutta la stagione del terrorismo da noi, insomma, è uno dei frutti di questa strategia, due tentativi di colpo, anzi, più tentativi di colpo di Stato, eccetera, eccetera. Allora, tu in un libro, credo, hai parlato di strategia dell'attenzione mondiale. Sì. Porta davanti agli Stati Uniti d'America. Allora, e sono questi gli strumenti attraverso cui gli Stati Uniti portano avanti la strategia dell'attenzione, al di là del… uno appunto pensa al terrorismo quando pensa a questa strategia dell'attenzione, ma esistono anche gli strumenti che non sono strumenti violenti così come li intendiamo noi, ma sono questi strumenti del web, dato che su cui passa questa strategia. Mi viene in mente una vecchia battuta di Daniele Luttazzi che diceva che esiste il golpe al rallentatore. Da molti anni non vediamo il golpe che porta le persone rinchiuse nello stadio, un colonnello pieno di mostrine, oddio c'è Figliuolo ma lasciamo stare, che va in televisione a dire abbiamo preso il controllo, siamo una giunta militare. Non c'è quel tipo di golpe. C'è invece una strategia molto più raffinata di influenza profonda su tutti gli apparati in cui centrale è il ruolo dell'informazione. Non è soltanto una questione comunque di centralità degli Stati Uniti in questo, è anche un'élite transnazionale quella che agisce, ha una base territoriale forte negli Stati Uniti ma anche in altre borse mi viene da dire, la Borsa di Londra o in altri luoghi, e perseguono una strategia comune di trasformazione delle società in cui tutto lo spettro degli strumenti possibili viene utilizzato, dall'informazione all'influenza finanziaria, alle strategie che vengono definite quelle dei sicari dell'economia, per cui si mirano particolarmente le attenzioni e gli strumenti verso una nazione e la si fa cedere nei suoi obiettivi. E certamente in Italia abbiamo un'anomalia. Da molto tempo abbiamo dei governi tecnici che vengono parzialmente interrotti dalla ipocrisia dell'andare a votare e dire c'è sempre il popolo che decide per poi ritornare a un altro governo tecnico. E in questo tipo di struttura, che diciamo protegge lo stato profondo in Italia, ha un ruolo che non penso fosse quello immaginato dai costituenti, il Quirinale. Cioè è la struttura più conservatrice che si possa immaginare nelle istituzioni. E ha un ruolo di impedimento incredibile. Quando c'è stato il primo governo Conte, che veniva da una spinta di cambiamento, comunque la si voglia giudicare anche se la si vede disordinata o incoerente perché c'erano Movimento 5 Stelle e Lega, però c'era una spinta al cambiamento, indubbia. Questi due partiti volevano nominare un ministro dell'economia che uscisse dagli schemi precedenti e il Quirinale bloccò questa cosa. Veniva considerata un dominio esclusivo del Quirinale. Quindi c'è una struttura che è una sorta di golpe al rallentatore permanente, che è lo stato profondo che resiste alla schiuma dei cambiamenti. Fitussi, un grande economista, dice che in Europa si possono cambiare i governi ma non si può cambiare la politica. In Italia è l'esempio forse più drammatico di questa situazione. Ma il collante di tutte quante queste politiche non potrebbe essere la paura, nel senso che la paura è il più grande motore che anima tutti gli esseri viventi. Insomma, alla fine agiamo tutti per fame e per paura. Aggiungo la procreazione, però non so, diciamo, questi sono i motori degli esseri viventi. E la paura ti paralizza, la paura ti fa smettere di pensare. Allora, tu hai citato i killer dell'economia, cioè quelli che costringono un paese, lo mettono all'angolo. C'è la paura del fallimento di un paese. In Italia noi l'abbiamo vissuta perché è arrivato il governo Monti, che tu hai citato uno di questi governi eterni, è arrivato per la paura del fallimento dell'Italia. C'è la paura del terrorismo. C'è la paura, e la paura del terrorismo ha portato a tante modificazioni di leggi in paesi dove non sarebbe stato mai pensato, come il patriotacto negli Stati Uniti. C'è la paura della crisi economica, che in Italia ha portato a Renzi, tanto per capirsi, e a tutto quello che ne è conseguito. Oggi c'è la paura del virus, che ha portato a un cambiamento anche del modo di governare il paese, sicuramente. E ha portato al Green Pass. Allora, è la paura il motore di tutto quanto? Sì, c'è un film di quel grande regista americano. Adesso lo stai dando. Sì, è vero, l'hollywoodismo ha prodotto tanto. Bullying a Columbine. Michael Moore. Michael Moore, proprio in quel film, racconta molto bene che, ad esempio, la paura è stato l'elemento... L'Oscar, quel film, vinse l'Oscar. Sì, sì, sì. Perché l'America si rispecchiò in se stessa, in quel caso. Vide che la paura era stato il collante di tante decisioni in tutta la sua storia. Ma possiamo dirlo che questo accade ovunque. La paura cosa porta? Nietzsche diceva che la paura porta a fare le meschinità. È il vero movente delle meschinità. La massima meschinità dello Stato è dire, c'è un'emergenza, dovete avere paura. Se avete la vostra vita minacciata, la vostra prosperità sotto scacco, ci siamo noi a proteggervi. E quindi ogni azione, ogni eccezione rispetto alle regole normalmente seguite è giustificata per proteggervi. Abbiate paura, quindi c'è uno stato di eccezione. Carl Schmitt diceva Ausnahme zu Stand, cioè la sovranità vera di un organo che è in grado di dichiarare. Siamo sotto un grande pericolo, quindi devono cambiare totalmente le regole. Assoggettatevi, divetate sudditi. È l'elemento dominante sicuramente anche di questa fase. È uno stato di eccezione permanente, su questo credo che abbia ragione anche Cacciari, a denunciare il fatto che ormai i governanti non dichiarino più il momento o la circostanza in cui può terminare lo stato di eccezione. Quando è che termina, ad esempio, la situazione pandemica? Altri paesi hanno deciso che non c'è uno stato di eccezione. Si gira normali, si prendono le precauzioni perché ovviamente un'epidemia le richiede, si prendono le distanze fisiche, si usa una profilassi diversa dal solito, ma la vita è normale. In Danimarca, in Svezia, dove non hanno fatto neanche un giorno di lockdown, in Germania, tutto sommato, nonostante varie situazioni, non è una situazione paragonabile all'Italia. Quando è che finisce in Italia l'emergenza? E finché non c'è la certezza che si dichiari il criterio con cui finisce l'emergenza, noi siamo sotto il ricatto della paura, l'estorsione, che porta anche alle conseguenze di questo assurdo Green Pass, che non ha nessun valore sanitario, nessun criterio scientifico. Allora, c'è un personaggio che ti dovrebbe risultare familiare perché ne hai parlato alla camera, che si chiama Zoran Milanovic. Allora, per gli spedatori Zoran Milanovic è il presidente della Croazia, socialista. Sì. Allora, lui ha dichiarato le seguenti cose, queste sono le dichiarazioni di Zoran Milanovic. Il derido de media per il Covid è eccessivo. Dovremmo conoscere lo scopo di questo delirio. Se qualcuno mi dice che per sradicare il coronavirus dirò che è una follia. È folle sostenere la cultura ossessiva della sicurezza. Nessuno può essere con certezza sicuro e protetto. Non c'è vita senza rischio malattie. Quel che fanno equivale a seminare il panico. Le persone sviluppano migliaia di malattie più gravi, mentre da un anno e mezzo commentiamo soltanto il Covid. Basta tormentare la gente chiedendo ossessivamente di vaccinarsi, voi siete chiusi nella bolla esclusivamente tutta italiana della paura. Si riferiva esattamente all'Italia e a quello che racconta adesso. Sono queste e questo il punto, cioè quello che Milanovic ha accolto esattamente quello che sta accadendo in Italia. L'ho citato alla camera in un discorso che sono contento abbia avuto una grande ecco anche fuori da quell'aula. Lo citavo perché c'è un dibattito assolutamente provinciale in Italia. Noi abbiamo le nostre Virustar, i Burioni, Galli, quello, quell'altro, che hanno addirittura i loro agenti pubblicitari che li seguono. Si, si, ci sono anche questi fenomeni di alcuni. Ormai sono diventati delle star che devono essere gli intellettuali organici della paura, quelli che devono diffondere un verbo di tipo nuovo. E sembra che sia dappertutto così perché nessun organo di informazione in Italia ci dice No, guardate che se attraversate il confine la situazione è completamente diversa. La gente non si mette la mascherina eppure non c'è gente che muore come mosche per strada. Quindi l'operazione da fare innanzitutto in Italia sarebbe di rompere questo guscio provinciale che fa pensare che tutto quello che si fa sul covid è come lo si fa in Italia. Non è così. Altrove si fa meglio. Hanno meno morti in proporzione alla popolazione, meno contagi. Hanno affrontato varie fasi della malattia, ma non hanno imposto delle regole assurde come in Italia che sono state tra l'altro lo strumento con cui si è fatto un danno spaventoso all'economia. Non dimentichiamo che nel 2020 l'Italia ha avuto meno 9 per cento di PIL che è un colpo che prima di essere recuperato richiederà molto tempo. Quest'anno c'è un aumento del 6 per cento, ma gli economisti lo chiamano il rimbalzo del gatto morto. Non è una situazione che ci lascerà indifferenti, sarà pesantissima. E si è fatto questo con assoluta nonchalance, come se fosse l'unico modo. Ci sono paesi che hanno avuto invece un contraccolpo molto più limitato. E ripeto, non con una situazione così grave come in Italia. Quindi la prima opera educativa che bisogna fare è aprite le finestre e uscite dallo schema italiano perché siamo veramente in una bolla autoreferenziale che non ci permette di capire cosa sta accadendo nel mondo. Quello che hai appena detto mi fa pensare a un film, The Truman Show. La Truman Show è la storia di un ragazzo, anzi di uno che nasce addirittura dentro gli studi televisivi che si chiama Truman e vive in una cupola, una vera e propria cupola che si vede addirittura dallo spazio. E lì si svolge la sua vita, la sua vita è al sicuro. Certo. E quando lui è un certo punto si rende conto che la vita potrebbe essere altro e cerca disperatamente, poi prende una barca, la vera e gli lanciano, cercano di ucciderlo per non permettergli di uscire quella cosa, e sbatte contro il muro della cupola e cerca di uscire. Perché prima di uscire il regista di The Truman Show gli parla dicendo io sono tuo padre, no? Tu qui sei protetto, cioè la tua vita tu pensi sia stata un inferno, che sia stata una vita finta, in realtà tu hai vissuto una vita meravigliosa. Fuori fa tutto schifo, fuori c'è il dramma più totale, fuori la gente muore, fuori c'è la criminalità, e ci sono tante altre cose, c'è la gente senza lavoro. Truman decide di uscire, apre un certo punto il portellone, esce, c'è il sole. E esce in una zona peraltro residenziale, cioè ci sono i prati, c'è il sole, la classica zona residenziale americana. Suburbana americana. Esattamente, quindi una bella zona ed è tutto tranquillo. È come se colui che gli ha parlato fino a un minuto prima gli avesse mentito totalmente. Cioè quello che c'è fuori è un altro mondo rispetto a quello che gli è stato raccontato o che gli ha voluto far credere. È esattamente questa la situazione in cui li troviamo? Cioè ho descritto se cos'è bene, oppure qualcosa di diverso. No, quel film tra l'altro è stato prodotto in un giro di pochi anni in cui negli Stati Uniti c'è stata una bella ondata di film che si interrogavano sulla natura del potere. Mi viene in mente anche Matrix, che ha un meccanismo paragonabile. Anche lì a un certo punto il protagonista Neo si sente dire da Morpheus, l'uomo che lo ha liberato dai vincoli della non conoscenza delle cose, gli dice ci sarebbe gente che vive in schiavitù che sarebbe disposta a uccidere chi la vuole liberare. Perché quella schiavitù certo è anche protettiva, è deresponsabilizzante. Un altro protagonista del film che poi tradisce alcuni, non voglio fare troppi spoiler, però a un certo punto mangia una bistecca che sa non essere reale perché sono solo dei bit che gli danno quella informazione, ma dice preferisco mangiare questa bistecca di cui sento un sapore anziché essere in una libertà in cui non sento più il sapore della bistecca. Il problema è che ora cominciamo a sentire poco il sapore anche dei cibi perché in realtà siamo sotto minaccia economica proprio a causa di questo sistema e ce lo vogliono, come dire, nascondere o portarci a sottovalutarlo. Adesso ci sarà una inflazione galoppante per via dell'aumento delle materie prime. Non è un sistema che ci protegge questo, ci racconta di volerci proteggere, ci prende per mano. Io vedo i commenti di molte persone che sono dalla parte di Draghi e lo vedono come il salvatore della patria, ma si renderanno presto conto che non è questo grande salvatore, è l'uomo che ha affossato la Grecia, vorrei ricordare. Però Matrix, visto che ci dà Matrix, dice anche un'altra cosa, ovvero che il tentativo di ribellione a Matrix è creato allo stesso Matrix, ovvero l'opposizione è necessaria per il perpetuamento del potere. Io tante volte mi sono chiesto, visto che per inchieste che ho fatto sulle rivoluzioni colorate, sulle rivoluzioni del mondo, quanto una rivolta, quanto un tentativo di opposizione al potere a qualsiasi livello sia in realtà funzionale alla perpetuazione del potere stesso, quando io scendo in piazza, sono io che scendo in piazza oppure c'è qualcuno che è contento che io scenda in piazza per manifestare contro di lui. E questa cosa qui è un tema che ci... È un vecchio tema però questo, perché tutti i movimenti in qualche modo sono stati influenzati dalle strategie di poteri che li volevano indirizzare. Addirittura certe volte il potere creava le condizioni per avere un oppositore più estremista per dire che con questa gente non si può trattare e quindi era funzionale ad assumere delle decisioni più dure. Forza nuova? Non volevo andare su verso forza nuova. Quello è anche un esempio, sì, piccolo, molto manipolato di mazzieri al servizio di qualcuno. È molto chiara la storia, anche i loro legami con pezzi di servizi britannici, qualcosa che deve portare proprio a diffidare totalmente di questa gente. No, ma penso in Israele Hamas fu una sorta di creatura dei servizi israeliani. Poi chiaramente i movimenti nutrendosi della carne viva, dei pensieri delle persone, seguono anche traiettorie loro indipendenti che vanno per altre strade. Quindi c'è sempre un equilibrio fra influenze varie che è la genuinità di manifestazioni popolari. Io credo che in questo momento le opposizioni si possano costruire con una certa autonomia di giudizio. Però per avere un pensiero di opposizione, di alternativa, di rivoluzione bisogna costruirselo e quindi avere anche una classe intellettuale che lavori su questo. Ma tu questa domanda te la puni? Cioè, quello che sto facendo, lo sto facendo perché sono veramente rivoluzionario oppure faccio il gioco di chi combatto? L'esempio che facevo prima, quel discorso alla camera che ho fatto, che ha avuto un milione e mezzo di visualizzazioni. Sono contento che un milione e mezzo di persone si siano potute sincerare di quello che avevo detto. Però è avvenuto tutto nelle piattaforme di Facebook e di YouTube che da questa cosa hanno ricavato visualizzazioni, pubblicità da trasmettere. Quindi è un sistema capace di catturare una parte delle energie che lo contestano. Ma questo può essere in certi casi anche positivo. Cioè, le costituzioni moderne sono nate dall'intento di evitare le guerre civili. Quindi tutta quell'energia che prima si spendeva in un modo distruttivo che poteva causare la distruzione comune è stata convogliata in un sistema in cui si dialoga, ci si alterna, si accetta un potere dell'altro anche con meccanismi protempore. Quindi si cerca di incanalare queste energie, di dargli un senso di casa comune. E questa cosa potrebbe rivelarsi più difficile ora con delle conglomerate che invece controllano l'informazione in un modo totalitario. Quello, insomma, è un problema aperto. Dobbiamo essere indipendenti, questo sì, di fidare di tutti. Lo dico a chi guarda questo video, usate una fiducia limitata, non date cambiali in bianco a nessuno, manco a me, manco ai miei amici. Mantenete sempre una visuale critica su tutti i problemi. Allora, McCarthy era un senatore degli Stati Uniti che impose, era subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi iniziava la guerra fredda, c'era Stalin dall'altra parte, impose dentro gli Stati Uniti un vero e proprio regime di terrore in nome della caccia al comunismo in cui venne letteralmente spazzata via un'intera generazione di intellettuali di tutti i tipi. Allora, tu hai definito il governo Draghi un maccartismo fuori tempo. Il governo Draghi sta facendo la stessa cosa? Sta cancellando una generazione di intellettuali? No, più che il governo Draghi il maccartismo fuori tempo c'è nell'atteggiamento del sistema mediatico italiano. Io penso che il sistema dell'informazione e della comunicazione in Italia sia il peggiore di gran lunga dell'Occidente. e su materie di grande rilevanza economica, politica e adesso sanitaria attuano una politica di pensiero unico per cui deve essere manganellato, non deve essere accettato qualsiasi pensiero divergente. Certo, questo è comodo anche a Draghi, però è qualcosa che va oltre l'attuale Presidente del Consiglio. È proprio un sistema che vuole creare un conformismo di massa al quale è anche difficile ribellarsi perché i manganellatori sono efficaci, non dormono mai. Certo, questo conformismo di massa. Cioè l'americanizzazione della nostra cultura mondiale non porta a questo. Cioè tutti consumiamo da McDonald's, tutti beviamo Coca Cola, tutti quanti guardiamo i film della Marvel o altre cose, comunque andiamo al cinema in base a quello che stabiliscono coloro che ricevono l'Oscar che è il premio assegnato dal cinema americano e così via. Cioè non esiste già questa cosa a prescindere dal... anche perché tu hai chiamato i sudditi del Draghistan. Cioè appunto come se noi fossimo uno stato diverso dagli altri. Usavo questo esempio, questa metafora per accentuare un elemento di differenza che ancora possiamo riconoscere rispetto ad altri paesi europei, quasi tutti praticamente. Cioè anche sulla gestione della questione Covid altri paesi sono stati i cittadini, le persone sono state trattate da cittadini. Da noi invece come sudditi che dovevano solo uniformarsi rispetto a una tendenza. Non c'era l'idea di un'informazione più variegata che dava spazio anche a posizioni diverse. Questa è la differenza che noto. Poi certo sono tendenze globali queste, riconoscibili. Devo dire che Pasolini le aveva viste con 50 anni di anticipo. Hai anche detto che questo governo ha lo scopo di mettere al sicuro gli oligarchi e prende decisioni gravi sul PNRR. Allora in che modo mette al sicuro gli oligarchi e chi sarebbero questi oligarchi e quali decisioni gravi sta prendendo sul PNRR? Vediamo, oggi una vicenda storicamente distruttiva dal punto di vista economico come quella del Monte dei Paschi di Siena si risolverà con un ennesimo salasso di risorse pubbliche che andrà verso i banchieri che tra virgolette la salveranno ma con soldi nostri. Tutta la vicenda di autostrade che ha portato al decadimento delle infrastrutture fino all'esempio più tragico di Genova non si risolve ancora con gli oligarchi che le dominavano che pagano il prezzo di quello che hanno fatto cioè approfittare di una struttura monopolistica per ingrassare le loro risorse e quindi non pagano pegno, sono protetti gli oligarchi. Non c'è uno Stato che prende l'iniziativa per riprendersi quello che dovrebbe essere gestito normalmente dallo Stato, i monopoli naturali, tutte le infrastrutture che fanno grande una nazione. E c'è adesso il pericolo che vedo nel PNRR, cioè il recovery plan, che sta diventando un pezzo di bilancio, uno spicchio del bilancio dello Stato molto grande che viene sottratto al normale controllo parlamentare, viene affidato a una sorta di elite di tecnici molto incontrollabili intorno ai quali si sta creando anche un apparato che rende più facile il sistema delle loro scorribande. Ad esempio la giustizia viene resa quasi inservibile, i processi, le prescrizioni adesso saranno in grado di coprire qualsiasi delitto dei colletti bianchi, qualsiasi sfruttamento delle risorse pubbliche. Quindi quello che sta avvenendo è che un pezzo proprio dell'economia italiana viene trasferito a qualcosa che non è più controllato democraticamente. Questa è la realtà. E in più questo recovery plan sarà gestito con risorse europee che ci legano mani e piedi alla vecchia austerity europea. Avremmo potuto fare piani di recupero economico con risorse nostre, abbiamo un grandissimo risparmio, avremmo potuto avere titoli pubblici che sarebbero stati sostenibili come debito pubblico senza dipendere dalle strutture europee. Invece ci leghiamo mani e piedi a quelli che dicono ce lo dice l'Europa. E quindi in base a questo Draghi o chi per lui potrà fare macelleria sociale o grandi cambiamenti nella struttura economica dell'Italia. Soprattutto a danno delle piccole e medie imprese. Prima hai citato il caso di Arlantia e del Ponte Morandi. Il caso di Arlantia è un caso molto, secondo me, quasi da studiare. Perché noi abbiamo un'azienda, un'azienda che viene sostanzialmente regalata dallo Stato italiano, che all'epoca aveva un ufficio proprio, un ufficio privatizzazione all'interno del Ministero dell'Economia e a capo di quell'ufficio di privatizzazione c'era Mario Draghi, che è una cosa bizzarra, cioè una specie di cosa circolare. Questa azienda viene privatizzata, viene sostanzialmente spolpata, cioè diventa un vero e proprio bancomat, perché sono soldi cash quelli che entrano, sono contanti, quelli che la gente paga agli autogrill o al pedaggio autostradale. Quindi è un po' come la mafia, tu hai enormi risorse che puoi saccheggiare in continuazione. Succede una tragedia, perché questa cosa non viene, non c'è nessun ritorno nella collettività, quindi puro sfruttamento. Esattamente come fanno di solito le multinazionali quando vanno, no, uno dice che le multinazionali vanno io per il mondo, a sfruttare. È quello che è accaduto. Noi ci accaniamo contro, aggiungo io giustamente, una famiglia che dovrebbe essere, in quel caso specifico, la famiglia Benetton, che dovrebbero essere i responsabili di questa cosa. Togliamo ai Benetton una cosa, dannogli peraltro un sacco di soldi, dopodiché diventa dello Stato italiano, però non diventa esattamente dello Stato italiano, diventa lo Stato insieme a delle aziende private. Allora, queste aziende private, la più importante, questa qui si chiama BlackRock. E la cosa curiosa è che Arlantia oggi, eh sì, Benetton hanno una grossa perfetta di Arlantia, ma in realtà i principali azionisti di Arlantia sono tre società, che è messa insieme, sono tre società legali tra di loro, cioè sono come se fossero un'unica società, però tu le vedi come tante spezzettate, se tu sommi le loro quote, superano quella di Benetton, ed è sostanzialmente sempre BlackRock. Cioè noi abbiamo regalato a BlackRock una cosa venti anni fa, poi c'è stato un disastro, abbiamo trovato Hitler, che in caso specifico è la famiglia Benetton, e diamo un sacco di soldi a BlackRock per riconsegnare a BlackRock l'azienda, così come era prima. No, ma infatti il mio vecchio vestire di analista finanziario, in questo caso non serve più a nulla, bisognerebbe analizzare queste cose con un esperto di incesti e consanguineità, di quelli che analizzano casi estremi, di piccole isole dove tutti sono imparentati. E BlackRock è diventato il parente di tutto il capitalismo mondiale, un parente anche ingombrante, devo dire, che decide le strategie, conosce in anticipo dove può estrarre il valore da portare poi nel casino finanziario. Quindi c'è un problema evidentissimo di concentrazione di capitali. Cosa dovrebbe fare uno Stato moderno di fronte a questo? Se uno Stato guidato da Draghi penserà che l'Europa può fare tutto, e questa Europa è quella della cosiddetta libera concorrenza, ma in realtà è la regola libera volpe in libero pollaio, è la libertà della volpe nel pollaio. Servirebbe invece una funzione dello Stato che recupera certe capacità di indirizzo e di politica economica, anche eventualmente scontrandosi con le dimensioni di Bruxelles, cosa non facile perché il potere di ricatto legato al debito o ai meccanismi finanziari o al dover partecipare nel carrozzone dell'euro ci porta a essere più ricattabili. Però da lì non si scappa. Il problema che ho visto in questi anni da parte anche delle forze politiche, prima il PD anche, poi la Lega e il Movimento 5 Stelle, è che non si sono mai occupati dei meccanismi profondi di regolazione dello Stato e della grande finanza. Si sono occupati di distribuire un po' di milioni fra i loro clientes o per vantarsi di aver risolto il problema delle aiuole, magari su quello trovano gli stanziamenti, si occupano di milioni, ma non si occupano di miliardi. I miliardi sono regolati dal livello Draghi in su. A proposito del livello Draghi, allora Draghi ha detto non ti vaccini, ti ammali o muori oppure fai morire qualcun altro. E tutto questo è il nome del Green Pass, ovvero della paura. Qui c'è il meccanismo che ha illustrato te e ritorniamo a bomba al tema che ha caratterizzato una prima parte di questa intervista, ovvero la paura. In Italia in questo momento è in atto questo tipo di strategia di detenzione, cioè terrorizzare a livello massimo le persone per fargli accettare qualcosa che non ha a che vedere con la salute. sono, diciamo, c'è stato un lavoro ai fianchi dei cittadini italiani, degli imprenditori, dei lavoratori, che è durato un anno e mezzo e più e ormai ha fiaccato l'animo di molte persone. Ma penso ai giovani, a tutti quei milioni di studenti che hanno dovuto sopportare la DAD, cosa che non è avvenuta in quasi nessun paese europeo, non in queste dimensioni, in questa forma, con questa estensione. Penso a un ristoratore che si è visto il proprio ristorante chiuso per otto mesi di fatto o aperto a singhiozzo o con spese che ha dovuto sostenere per poi richiudere nuovamente. Ovvio che queste persone siano terrorizzate e si farebbero iniettare anche delle cose radioattive pur di riaprire o accetteranno qualsiasi limitazione. Cioè è stato fatto un lavoro veramente... Io capisco anche le persone che danno il consenso a questa nuova situazione. Le capisco intimamente perché ci parlo. Ho parlato con ristoratori o altri imprenditori. Mi dicono sì, ma se l'alternativa è la chiusura. Guarda che il 2020 per me è stato devastante. Mi sono indebitato. Ho fatto delle cose che non avrei mai pensato di fare. E quindi, certo, non avrò il fatturato 100 che avevo prima del Covid, ma mi accontento di avere un fatturato 50-60 con questa regola del Green Pass. E quindi ben venga il Green Pass. Accettano questo perché sono stati ricattati anche con queste forme esagerate di gestione della pandemia. Io credo che ci sia stato anche alla fine un intento distruttivo per un certo settore dell'economia per poi renderlo preda, facile e della politica e delle multinazionali. Molto preoccupante questo tra l'altro in prospettiva perché se si accetta una limitazione delle proprie libertà provvisoria si è poi disposti ad accettare ulteriori passaggi. Invece occorre mantenere fermo il punto e questo Green Pass non è una soluzione sanitaria è soltanto un'estorsione. Quello che hai appena detto mi hai fatto inventare una cosa perché si cerca di prendere alcuni settori dell'economia e farli rendere preda di qualcun altro e allora pensandoci la ristorazione e il turismo sono i due motori dell'Italia cioè noi siamo che ci caratterizza parecchio sicuramente. Noi siamo la cucina del mondo non so come dire e siamo anche il luogo per eccellenza del turismo poi non siamo il paese più turistico al mondo che ospita più turisti ma se uno pensa al turismo e alla cosa pensa all'Italia nel mondo allora e sono esattamente i due settori non so se siano i due maggiormente colpiti ma poco ci manca e può avere cioè può essere adesso sto facendo un volo pindarico magari può essere un modo per annullare l'unicità italiana cioè per normalizzarci rispetto al soft power americano cioè rispetto a oppure alla cultura anglosassone che è completamente diversa rispetto alla nostra la cultura protestante noi siamo cattolici cioè c'è tutta una serie di differenze può essere questo? Il sospetto viene perché sicuramente il quadro di esponenti di cui si è circondato Draghi tecnici come Colau come Cingolani come personaggi che hanno oppure tutta quella serie di madrasse neoliberiste che hanno prodotto gli Alesina i Giavazzi questi personaggi qui non amano le strutture economiche che sono state caratterizzanti della terza Italia dell'Italia delle piccole imprese o dell'autoimpiego e quindi vogliono certo omologarci a un sistema in cui la finanza prende il sangue si vuole di modo di vita certo di cultura di cultura della nostra pizza della nostra pasta del nostro cibo o del fatto che possediamo le case l'80% degli italiani vive in case di proprietà ed è una percentuale rovesciata rispetto a certi altri paesi e questo cosa significa nell'ottica di un cinico banchiere vedere del valore che si è accumulato in tante generazioni in Italia che potrebbe garantire una transizione anche lunga di sofferenza per l'Italia non muoiono subito gli italiani che hanno una casa però piano piano gliela togliamo e la revisione degli estimi catastali va in direzione della vendita più che spendere un sacco di soldi per una seconda casa che ho il punto non è liquido la do via oppure non riesco più a sostenere le case di casa dovremmo guardare Draghi fissarlo in una fotografia con dietro una bandiera dell'Europa e davanti una bandiera della Grecia e dire vi fidereste di quest'uomo gli affidereste il valore della vostra casa molti risponderebbero di sì molti però si farebbero delle domande molto drammatiche io credo che il tipo di domanda da farsi sia del secondo tipo tu sostieni che il governo vuole imporre non l'immunità di Greggio ma l'impunità di Greggio che vuol dire? beh la riforma Cartabia è stata costruita in modo da rendere così dei processi a termine circa 150.000 processi è giusto che i processi abbiano un termine abbiano una durata limitata ma questa cosa la puoi raggiungere se investi ad esempio in amministrazione giudiziaria se metti più personale per far funzionare i tribunali se metti più magistrati dove occorrono e se elimini certi gradi di giudizio che rischiano di essere inutili ma se invece raggiungi l'obiettivo di rendere brevi i processi semplicemente mettendo una deadline dopo due anni come va li tagliamo e in quel caso stai creando le condizioni per non dare giustizia a centinaia di migliaia se non a milioni di persone questo è quello che accadrà con la riforma Cartabia quindi si garantirà un'impunità che mi preoccupa particolarmente non solo per i delitti passati che attendono giustizia ma anche per quello che accadrà nel futuro nel momento in cui si affida un potere enorme economico e finanziario con i piani di ripresa a un gruppo limitato di persone che possono fare veramente di tutto contro la legge hai anche detto mentre sono in atto discussioni surreali sul fascismo e antifascismo nel frattempo il governo usa mezzi da stato totalitario e quali sarebbero questi mezzi da stato totalitario perché noi siamo siamo in dittatura cioè io esco è questa la questione allora io cerco di guardare i fatti vedo che sono stati gestiti molto male gli eventi di piazza recentemente o delle proteste c'è su questo però con un'accelerazione è un'ampia carla da storia però ad esempio ci sono state grandi manifestazioni studentesche in Italia per quanto avessero elementi di inquinamento qui e lì non è che si andasse a sgomberare immediatamente una scuola occupata si teneva conto del fatto che lì c'era una partecipazione studentesca che aveva anche molto di positivo di democratico era una palestra di conoscenza dei propri diritti ed è stata sostanzialmente con fatica ma rispettata nel corso del tempo invece ieri liceo ripetta occupato dagli studenti arriva la polizia e manganella gli studenti e questo fa il paio con lo sgombero dei portuali di Trieste perché sgomberarli? non stavano bloccando il porto chiunque poteva entrare a lavorare non era un picchetto non era un blocco del porto era una libera manifestazione sono andati con gli idranti manco fossimo nel Cile degli anni 70 e hanno manganellato delle donne incinte o dei ragazzini cioè è successo qualcosa che ha fatto fare un salto di qualità alla gestione dell'ordine pubblico o prima ancora come Genova anche Genova è stato sgomberato il porto no no lasciamo eh ho capito tu mi hai fatto gli esempi noi abbiamo esempi molto più gravi Genova 2001 che però fu vissuto come un'eccezione un'eccezione molto influente su quello che è accaduto negli anni successivi perché ha fatto percepire a molti un costo del manifestare cioè un costo in termini di rischio fisico personale è stato un evento di una gravità assoluta abbiamo visto quanta impunità c'è stata per i protagonisti della macelleria genovese questo è un caso isolato secondo te non è però sostanzialmente ci sono state molte manifestazioni anche negli anni successivi che non hanno avuto questa torsione grave adesso io vedo una gestione di nuovo molto discutibile come minimo è anche irridente nei confronti della verità la Lamorgese che dice di fronte alle immagini di quel poliziotto preso corsorcio in bocca come si dice qui a Roma che sta picchiando i manifestanti oppure sta muovendo la camionetta della polizia assieme a un gruppo di faccinorosi e dice stava provando gli ammortizzatori di quel movimento ondulatorio di quel mezzo della polizia una cosa pronunciata nel Parlamento rendiamoci conto della gravità di questo oltraggio e aver detto non abbiamo fermato quelli che annunciavano di andare verso la CGL per evitare problemi di ordine pubblico però è la stessa ministra che va a bastonare degli inermi che stavano facendo una normale manifestazione quindi ci sono metodi che non mi piacciono come dire da stato totalitario che fanno il paio con l'accentuazione di una idea intollerante delle posizioni diverse ormai la posizione dominante pensala come vuoi purché la pensi come noi ma è in atto una vera crisi della democrazia non parlo solo dell'Italia sì per le ragioni che dicevo anche prima dal punto di vista della comunicazione che non consente un esercizio pienamente libero del pensiero del fatto che c'è una posizione assolutamente dominante di certe posizioni di una produzione cinematografica che crea dei set di idee che sono quelli e non sono tolleranti verso altri quindi c'è una crisi globale c'è poi anche una crisi specifica dell'Italia in cui le istituzioni hanno schiacciato la rappresentanza popolare infatti la gente non vota più allora c'è un personaggio che purtroppo non se lo piene nessuno che è recluso sotto varie forme oramai da tanti anni si chiama Julian Assange allora Julian Assange è lo specchio di questa crisi nel senso per chi non lo conoscesse insomma è un giornalista che un bel giorno decide di fondare una piattaforma che permetta che ha altissimi milioni di sicurezza perché lui è un informatico anche e che permette a chiunque di postare su quella piattaforma in maniera di tutta anonima i segreti del potere e grazie a questo meccanismo e grazie a questo meccanismo lui riesce a rivelare cose che si sospettava ma nessuno aveva mai visto mettendo in ginocchio letteralmente varie amministrazioni degli Stati Uniti d'America da quel momento in poi gli si è stata fatta una guerra senza quartiere si sono stati inventati finti processi di stupro è considerato il cattivo del mondo mentre invece è quello che hanno fatto non saprei Robert si Woodward mi confondevo con i film vorrei parlarne Woodward e Bernstein quando hanno messo in croce Nixon quello che hanno fatto tantissimi giornalisti oggi invece è lui il cattivo cioè colui che rivela i problemi del potere è il cattivo e nessuno non frega niente a nessuno nessun governo nessun Parlamento nemmeno la comunità dei giornalisti né italiana né internazionale lui è esattamente il simbolo di questa crisi della democrazia ne sono molto convinto di questo tanto è vero che mesi fa ho presentato una mozione alla Camera per riconoscere di fatto ad Assange lo status di rifugiato politico in modo che il governo si possa attivare per far riconoscere uno status speciale a una figura che è stata importante per la democrazia occidentale mi viene da dire e questa mozione viene continuamente rinviata dai partiti di maggioranza non voi tutti compreso il Movimento 5 Stelle che aveva si era battuto a suo tempo per Assange bloccano la cosa non la vogliono affrontare perché emergerebbero anche nessuna motivazione dichiarata la rinviano e basta e questo succede quando sono molto in imbarazzo perché dovrebbero affrontare dei nodi irrisolti sul rapporto fra potere e comunicazione fra giornalismo e i segreti che sono negli arcane imperi questa cosa non la vogliono affrontare ed è un dramma credo di tutto l'Occidente perché Assange rappresenta il giornalismo moderno il giornalismo post rivoluzione di internet quindi è stato l'artefice di una fortissima trasformazione della funzione del giornalista c'era un grande giornalista d'inchiesta argentino che diceva Horacio Verbischi che giornalismo è raccontare qualcosa che dà fastidio a qualcuno tutto il resto è propaganda ecco il giornalismo di Assange è un esempio straordinario di questo concetto ha dato molto fastidio ma ha permesso a tutti di conoscere i limiti ad esempio delle strategie di guerra degli ultimi vent'anni oggi il mondo se ne va via dall'Afghanistan dopo averlo invaso il mondo occidentale Assange queste cose le diceva in anticipo dieci e più anni fa e rivelava i segreti che avrebbero già allora giustificato la fine di quella guerra quindi cosa è successo il giornalismo occidentale ha incontrato se stesso e non l'ha saputo riconoscere l'Occidente che ha proclamato i diritti umani solennemente con carte dei diritti umani che sono un prodotto occidentale lo possiamo anche riconoscere di fronte a un caso di diritti umani così eclatante non ha riconosciuto se stesso l'Occidente si trova di fronte a uno specchio di se stesso e non lo sa rispettare questo è il caso Assange grazie mille allora se questa intervista vi ha appassionato oltre che raccontarlo in giro magari se poteste anche darci una mano noi ve ne saremmo molto grati vi è passato nel corso di quest'ora un'informazione ovvero un IBAN dove eventualmente inviare i soldi che è l'unico modo che noi abbiamo come dei restanti altri soggetti in questo mondo che so così ben raccontato da Pino Cabras che noi abbiamo per poter conservare la nostra indipendenza e poter permetterci di fare interviste come queste criticando il potere quindi per favore fatelo grazie mille grazie a tutti grazie a tutti